La pesca è in ginocchio, il settore vive una crisi profondissima. I rappresentanti di associazioni e sindacati di categoria hanno incontrato al Ministero delle Politiche Agricoli, Alimentari e Forestali il Sottosegretario Francesco Battistoni e il Direttore Generale della Pesca Riccardo Rigillo. Da Termoli Paola Marinucci al vertice degli armatori del Molise, Domenico Guidotti per Feder Copesca e Giuseppe Nardone per Feder Pesca. Si aprono degli spiragli ma il problema più grave resta, il caro gasolio non fa dormire sonni tranquilli. E' stato così aperto un tavolo permanente per monitorare lo stato di crisi e trovare i percorsi necessari che coinvolgano anche altri ministeri come quelli del lavoro e dell'economia. Il decreto ministeriale che stanzia 20 milioni di euro per fronteggiare il caro energia è in dirittura d'arrivo e dentro pochi giorni si apriranno le procedure per presentare le istanze di contribuzione. Bisogna mettere subito in campo dei ristori e il fermo 2021 deve essere pagato. Vanno sollecitati anche i vertici europei. Battistoni si impegnerà. Ci ha promesso comunque l'allungamento del credito d'imposta e l'uscita della circolare per il credito d'imposta e forse una notizia buona è che si farà carico presso la comunità economica europea per chiedere un indennizzo per un fermo volontario. Però certo la marineria non è contenta nel senso che si aspettava qualcosa in più però adesso è difficile da parte del sottosegretario trovare altre soluzioni perché il problema fondamentale è il prezzo del gasolio quindi sul prezzo del gasolio poco si può fare. Questo del fermo volontario potrebbe essere un'idea. Il fermo volontario è l'accesso alla cassa integrazione per i marittimi. All'incontro però nulla è stato garantito su riduzione del costo del gasolio, su fermo biologico facoltativo di emergenza, sull'attivazione della cassa integrazione straordinaria e retroattiva dal primo gennaio scorso per gli imbarcati e niente è stato detto sul blocco dei mutui per armatori e marittimi. Il sottosegretario Battistoni si è però reso disponibile ad un colloquio immediato con i rappresentanti delle marinerie d'Italia ma non basta. Il prezzo del gasolio ha detto Paola Marinucci continua a salire, nulla è stato fatto, nulla è cambiato. Lo stato di agitazione resta così come le barche in porto.